Dopo quasi un anno dalla posa della prima pietra i lavori del nuovo polo scolastico di Castellabate sono quasi ultimati. Come si evince dal monitoraggio delle foto aeree scattate durante i lavori, l'intervento finanziato con fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per 4,5 milioni di euro punta anche alla riqualificazione di un'ampia area di Santa Maria in via Palatucci, strategica dal punto di vista logistico e di mobilità. L'opera ospiterà le scuole materne, primarie e secondarie della frazione Santa Maria, oltre a una mensa e a un giardino botanico. L'amministrazione di Castellabate è appuntato ad un edificio moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato, provvisto anche di un palazzetto dello sport. Un'opera pubblica attesa da tempo sul territorio che ricorderà la figura del professore e già sindaco di Castellabate, Raffaele Tortora, cittadino stimato e amato dall'intera comunità.